Naturalmente una volta che abbiamo impostato il primo P-Array possiamo andare a crearne altri, quindi a creare comunque delle copie, rinominarli con i nomi corretti per ogni geometria a cui vogliamo assegnarli e andare a variare le varie impostazioni. Naturalmente la prima cosa da fare è assegnare una nuova geometria, in questo caso il V2 sarà collegata al nostro Vood02. E in più siamo andati a assegnare delle proprietà differenti sia per quanto riguarda lo speed, la variazione, in alcuni casi anche la divergenza, la morte delle particelle, quindi la vita delle particles, la dimensione delle stesse e molto interessante anche un nuovo seed, quindi cliccando su New possiamo scegliere come posizionare diversamente la nascita delle stesse, quindi le varie posizioni. Andiamo ad aggiungere del dettaglio su questi elementi, sui vari P-Array, sulla forma più che altro che dovrà avere il nostro fuoco, quindi grazie al vento che ci siamo creati precedentemente, il quale però non abbiamo collegato ai P-Array, andiamo a creare appunto una forza di attrazione. Per creare una forza di attrazione abbiamo bisogno di modificare la sua forma in sferica e assegnare un valore negativo allo strength, quindi meno 0,0 per esempio 5. A questo punto andiamo a collegarlo con il Bind to Space Warps a le varie geometrie e notiamo che oltre ad alzare notevolmente quindi la distanza, se vogliamo mantenerla diversa conviene abbassare la forza di attrazione, notiamo che abbiamo anche un effetto di inclinazione verso lo stesso. Quindi diamo play, vediamo che avremo questa attrazione verso questo punto. Più lo porto in basso più l'attrazione sarà forte, quindi più avremo un effetto di reverse, quindi le particles andranno verso l'alto seguendo le informazioni della vita e poi tenderanno a tornare verso il basso. Naturalmente se abbiamo una vita molto lunga per le particles le stesse saranno più visibili. Altro aspetto che possiamo inserire è naturalmente del noise, della turbolenza, quindi andiamo ad aggiungere della turbolenza sia al vento che fa da attrazione, quindi lo possiamo anche portare in alto, potremo anche volendo animarlo leggermente, quindi portarci a determinati frame e muoverlo nel tempo, magari però molto più dolce, quindi non con grandissimi spostamenti. Stessi valori possiamo assegnarli anche al nostro wind inferiore, quello che tende invece a creare l'effetto di gravità, quindi quello che spinge verso l'alto, quindi potremmo dare una turbolenza pari a 0,2 o meno, oppure 0,3, una frequenza di 0,2 e vediamo l'effetto.